Proprio da quest'anno l'Unione Ciclistica Internazionale ha approvato le squadre professionistiche anche per le donne. Fino all'anno scorso la nostra denominazione non era professionista ma era elite. Questo significava che non c'erano assicurazioni, che non c'era fondo pensionistico e questa è stata una lotta che abbiamo portato avanti da tanti anni. Io sono entrata nel mondo del professionismo nel 2003 e soprattutto negli anni dal 2006 al 2012 c'è stato un forte cambiamento. Ci sono state tante riunioni, tanti incontri con la federazione, con i vertici della federazione anche perché in quegli anni noi donne abbiamo vinto molto di più rispetto agli uomini. Abbiamo ottenuto molti più risultati sia a livello di mondiali, di titoli europei. Pertanto era l'Italia al femminile nel ciclismo che portava avanti la federazione. Quali sono state un po' le motivazioni ma anche le tue capacità e attitudini personali che ritieni ti abbiano fatto comunque continuare a perseguire questa strada nonostante le difficoltà che hai dovuto affrontare? Sicuramente sono una persona molto testarda, perciò quando si mette in testa una cosa, essendo anche ariete, il carattere sicuramente ha inciso molto perché i sacrifici soprattutto nell'età tra i 14 e i 18 anni sono stati tantissimi. Però lo sport mi ha sempre dato quella grinta e quella visione del mondo diversa perché comunque sia ti metti a confronto, cresci con altre ragazze di altri paesi, di altre regioni, ti confronti, hai una visione maggiore. Ho fatto tanti sacrifici, però ho realizzato comunque sia il sogno delle Olimpiadi e sono riuscita ad arrivare all'apice dello sport.